Grazie a tutti per il privilégio di visitare la Bocasca, grazie per la occasione, specialmente la occasione attuale, nel momento che io ci sono un tema abbastanza e relevante, specialmente applicato nella nostra temporada. Buon altro passo per il pericentre, per rispondere la perspectiva nel canal 22, sempre a 5854055, per andare in una barra, per andare in una barra, per andare in una barra, molto facile, no? Il cammino di lante del web, per andare in un'officina di glass, che è il ultimo edificio in un'officina di mangiare, e il Bosch Autoparts End Repair Center. Ora mi chiede a papiurato, è un tocante di amore, tra i tocanti di amore. Per me, che è un tocante di amore, è un punto di vista biblico. Qui con la Bibbia, è un tocante di amore, è un tocante che ho conosci, che è il corinthio di estrae, ma si non è tenendo a usare il corinthio di estrae, con amore, non è un tocante di costa così. Allora mi chiede a tecso di amore un ratico di estrae. La isla di Aruba è un uerfano culturale che stima. E tra i tipi di amore che stima il paese Aruba, non è stima Aruba, non è stima Arubiano, ma è un'estima che lo che Aruba ti ofreste. Aruba ti ofreste lavoro, ti ofreste salario, posizioni, posti, e così, a tecso di amore che stima il paese Aruba di l'anti, per me dire il beneficio di Aruba ti. Tende che con scrittura di Pisa. Ma che mi papi ha lento di gente e di angeli, ma non è un amore, ha visto un tocco, un gong, con la zona, o un simbale con la zona. Si mi ti don, la habilità di profecia, e ti comprenderà il misterio, il tuo conocimento, e se mi ti inturfei, perché c'era un po' di un altro lugar, ma non ti amore, non ti amore. Ho bebiato, dove noi abilità non, che noi stiamo disponibili, che noi puoi usare, noi chiesti, non si mi si fai, no, mi ti stima Aruba, mi ti stima, e talente, passo mi stai, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E te dice qui, se mi può conosce tutto il idioma del mondo, mes, ho po' papi ha 20 idioma, anche il idioma di anglo, ma ho po' papi ha, e ho motivazione, notare, delo mellor, per altre persone, delo me lo per l'isla, tenta pensare, tuve una habilità, tenta per niente. Allora, ma se bo tien, am, ma az è abilità, la que non mi ha, ma isa abilità, per, am, comprovi il misterio, profecia, si mi può profecia, mi può predica, mi può papia, si mi sta famoso, non ti invitano, posso, non ti mammi rivali, e partito, posso gra, mi tiene abilità, mi può papia, a sacudir la gente, una congregazione, un pobo. Ma che non è Hitler, è stato timido. Però Hitler, è stato desestima. Hitler, il suo corazono è stato molto, molto odio. Pagava con tutto quello che è giudio. Sobre il dolore di un giudio, Alemanha perde la prima guerra mondiale e ha detto che deve, che non può pagare. E' stato odio di un giudio di interno sul corazon, però è stato timo di abilità, papi, ma viene. Quindi, la qualità di qualificazione, per esempio, la qualità di abilità, la qualità di abilità, non è motiva per buscare lo migliori di altri, non è buscato il proprio interesse. di maniera, non è tempo in campagna, che tu non ti stima a ruba, tu non ti stima a pubblicare di aruba, tu non ti ha fatto qualcosa, sì, mi chiede, mi chiede, mi chiede, ha fatto qualcosa per pubblicare di aruba. Que cosa è la motivazione, o che è un politico? Que cosa è la motivazione, o me è un activista, o signore activista? A par del Signore Jesucristo, di un bubile, di un bucorazone, buonotin è amor, come la tua papia di G. Per don di picare in Cristo Jesus, per ricevere il amore di Dio, per essere un po' atto e viva, motivare. Per il amore di Dio, per rendere, per experienciare, è il amore di qual, per la papia di G. 594-0541, per Fredrick Kelly, di un altro via, per perspectiva. Grazie a tutti.